Non temete mai di fare troppo. 20 marzo 1976 Figli di Letti, siate benvenuti nella mia casa, dove vi accolgo con tanto amore. Voi siete quei figli affezionati che non vogliono mai allontanarsi da me, ed io vi custodisco vicino al mio cuore e vi aumento la grazia, la fede e la fiducia. Sono contenta di voi. I vostri desideri di bene non possono trovare che compiacenza ed appoggio presso il cuore del mio Gesù e mio, ma pensate quanti figli prodighi si allontanano giornalmente da Dio. Vogliono la loro parte d'eredità. Vogliono i beni materiali, che qualificano superiori a quelli spirituali. Si allontanano da Dio, perdono la fede ed ogni senso di morale, sperperano le grazie di Dio e si riducono alla miseria e alla fame, poiché il demonio li fa sua preda. Io vi prego di aiutarmi a richiamare queste anime. Non temete mai di fare troppo. Se io vado mostrando in molte parti del mondo cose straordinarie e lacrime di sangue, è perché è urgente soffrire, perché i lontani, i figli prodighi, ritornino alla casa paterna. Siate la mia voce, siate la mia parola, siate il mio cuore. Così, io vi do il mezzo per poter essere la mia voce, il Rosario. Sappiate che esso è una potente forza per richiamare. È come l'eco della mia voce, che si ripete ogni volta che dite, Ave Maria, Santa Maria. È anche un piccolo Vangelo, il Rosario, e voi, recitandolo e diffondendolo, fate conoscere i misteri della vita di Gesù, che tutti devono conoscere. Avete però anche il mio cuore, di cui vi faccio dono perché possiate amare tutti come li amo io. Non fate mai distinzione fra buoni e cattivi. Amate tutti, perché è solo con l'amore che si trionfa sull'egoismo e sul male. Fate sempre così, amate col mio cuore, come io vi amo col cuore di Dio. Sarò con voi e pregherò con voi. Voglio preparare i vostri cuori a celebrare con particolare fervore la festa dell'Annunciazione. È una delle feste più grandi della cristianità, poiché l'Annunciazione fa prevedere la salvezza che il Figlio di Dio dovrà portare nel mondo. Vi benedico fin d'ora e vi dico tutto il mio affetto. Arrivederci, figli.